Oltre alla trasmissione di martedì che si occupa esclusivamente del campionato di serie D, stiamo cercando di dare risalto alle squadre del Vercellese che militano nelle serie inferiori. Per poter costruire un programma ad hoc potete inviare le immagini oppure i video delle partite e delle interviste delle gare alla nostra mail info-vercelliweb.tv Questa settimana abbiamo seguito per voi il derby di eccellenza tra Nove e Santià vinto dai Borghini per 2-0 e sentiamo proprio ora le parole del mister del Nove, Giuseppe Bassani. Siamo più contento perché in questo momento di difficoltà abbiamo proprio tirato fuori l'orgoglio e tutto quello che avevamo con dei giovani travi che ci hanno dato una mano anche stasera, e tutti i ragazzi sono calati bene nella parte dei grandi e quindi siamo soddisfatti. Se eravamo in un momento di difficoltà, carazzo, se questi ragazzi si comportano così mi piace che troveranno abbastanza duri un po' tutti. Come vi ho detto se volete contribuire alla nostra trasmissione potete inviare tranquillamente i vostri video fatti anche semplicemente con il telefonino alla nostra mail info-vercelliweb.tv Appuntamento quindi alla prossima puntata e arrivederci. Grazie a tutti.